bene amici fratelli della congrega video breve di me sgaruppato di me in viso sciupato di me mal lavato mi ha forse rinnovato forse restaurato forse del tutto rovinato io sono una persona molto autironica a differenza di altre persone troppo serie seriose che vogliono pontificare moralizzare pedagogizzare e istruire il prossimo fornigli istruzioni per l'uso per meglio dire perché non credono che sappia diciamo così metaforicamente pilotare guidare all'interno del percorso esistenziale e vada istradato giornate dure impietose severe ma aspettano e verità profonde saranno svelate rivelate e alcune persone saranno illuminate in merito il tutto sarà illustrato le calugne le diffamazioni ritornano al mittente e ieri sera avete pagato il canone voi che vi attenete ai canoni rai vi siete collegati a quell'emittente io sono veramente uno scrittore per quanto ciò possa infastidire turbare irritare certa gente e per allestire di kindle amazon bisogna diciamo impratichirsi esperienze dure dello sbaglio perché errare umano perseverare diabolico quindi chi non vuole confessare la verità sarà dall'agente cooper di twin peaks scoperto dal commissario falò correzione bozze le persone che abbozzano tengono tutto dentro e le persone che vengono diciamo trattate in maniera macchiettistica a modi bozzetto i ritratti bozzettistici caricaturali di chi vorrebbe storpiare la tua persona e ridicolizzarla ho di nuovo assistito al documentario in merito alla carriera di david lynch però documentario in italiano che si può diciamo vedere su youtube ma rimane fermo all'ultimo film prima di land empire cioè mulho land drive era il 2001 poi cosa successe molti accadimenti funesti tristi e vicende diciamo maliconiche furono da me narrate elaborate nel libro dopo la morte un libro in cui si racconta di esperienze manicomiali con un coraggio e uno stoicismo da fare invidia a paul traders di dune in cui viene diciamo canalizzato introiettato no vergato un percorso di riabilitazione per i poveri cristi che pensarono di avere gioco facile contro un uomo linciano no linciato e ancora lo deridono dandogli del pelato ma ricordate ponzi e pilato uomini avete mai visto veluto blu ora potrei passeggiare e trovare un orecchio e la mia prospettiva la mia ottica nei confronti del mondo cambierebbe riguardando tutto attraverso una retrospettiva da diverse prospettive cambiando inquadratura e ribaltando quindi le aspettative degli eters posso dire che sono felice della mia ascesi spirituale di essere un ascetico di aver trovato la coscienza la pace omostatica che viene turbata perentoriamente continuamente dai deficienti e quindi io mi inalbero mi adiro mi fermo mentre le persone ferme al passato e dunque inferme di mente perché la vita va avanti lo dice anche linci in questo documentario non cambiano mai la percezione del proprio sguardo nei confronti del prossimo e della realtà la loro visione circoscritta delimitata a un background che necessita quanto prima di essere destrutturato cancellato e riprogrammato quindi io non ma soggetto nessuna regola e soprattutto a questi soggetti io so utilizzare bene il soggetto il predicato verbale e voglio verbalizzare col mio avvocato la denuncia da me effettuata perché voglio continuare ad andare avanti non soltanto nella vita se voglio posso anche condurre una vita protesa al puttanesimo a silvio berlusconi e dove sta il problema chiedo a te i soldi quindi chi scrive che io scriverei polpettone amatoriale non ha mai scritto un cazzo sa solo guardare film in maniera passiva e è un passatista ripeto è nostalgico io sono falotico ipnotico magnetico caotico e sono forte molto più forte di quello che certa gente pensava pensava che sarei colato a piccolo in caduta libera sarei precipitato ma qualcosa ha spiazzato certe persone nessuno mi deve dare regole anche perché io sono un genius e sì quindi alla fonte battesimale lì nel fiume giordano giordano bruno bruno giordano calciatore o quell'uomo libero a cui fu praticato una caccia alle streghe le stregonerie le diavolerie che la gente si inventa gli stratagemmi diabolici per rovinare deturpare un'anima angelica comunque sulla mia purezza non ci metterei la mano diciamo sul fuoco la mano va messa qui perché qui c'è il falò delle vanità un falò che sa che isabella rossellini a quei tempi di velvet blu era buona era buona e che nel film la morte ti fa bella il culo e lato b non è il suo e di catherine bella su cui io mi masturbai molte volte in quella scena in bikini era quel periodo lì 2001 2002 in quella serie televisiva con quel costumino aderente blu blu velvet blu velluto io la pelle vellutata sono un uomo di carisma di risma pratico come tutti i gargarismi e sono un uomo che di voi se ne fotte voi non sapete cantare non sapete scrivere non sapete poetizzare romanzare e ripeto la realtà da altri punti di vista guardare quindi guardatemi però qui siamo su un imbranato ho dato anche una botta allo specchietto specchiatevi e confessate e vomitate la vostra putrescenza il vostro essere putridi impuri come gli atti che commettete non a livello masturbatorio ma a livello di cyberbullismo ci siamo i tesi e se inizio a parlare io sono cazzi vostri quindi chiariamoci su questo aspetto molto importante e quindi ora vogliamo parlarvi del festival di Sanremo e sintonizziamoci su radio capita allora allora questo anche mia nonna mia nonna la mia conoscente chiamava battiato franco macchiato franco macchiato su questa battuta ho detto tutto la battuta nessuno può battermi battete le mani lucio battisti il battistero il battesimo il falò